Al Grande Fratello potrebbe esserci una svolta per quanto riguarda Enzo Paolo Turchi. La notizia dovrebbe essere confermata da Alfonso Signorini nel corso della puntata in diretta del 14 ottobre. In questi giorni è successo di tutto in casa, col ballerino che ha anche attraversato un periodo di nervosismo a causa della concorrente Elena Prestes. Nella casa del Grande Fratello Enzo Paolo ha avuto prima qualche tensione con la moglie Carmen Russo, che l'ha raggiunto per restarci qualche giorno. Poi ha litigato con l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi per una coreografia. Ora lui avrebbe deciso di fare una scelta drastica, che lascerebbe comunque tutti senza fiato. Manca l'ufficialità, che avverrebbe durante la puntata in diretta del Grande Fratello, ma Enzo Paolo sembrerebbe propenso ad agire in modo preciso. Ad anticipare tutto è stato il sito angolo delle notizie, che ha ipotizzato cosa potrebbe accadere davanti alla moglie Carmen Russo e anche agli altri concorrenti, che ascolterebbe tutto con grande attenzione. Carmen lascerà la casa nella serata del 14 ottobre, ma la grande sorpresa potrebbe essere rappresentata dall'addio anche di Enzo Paolo. Pure lui potrebbe decidere di uscire definitivamente dal reality show perché già stanco di questa avventura e desideroso di fare rientro a casa, dove potrebbe riabbracciare la sua adorata figlia Maria. Ovviamente la verità la scopriremo solamente nelle prossime ore, quando i telespettatori si sintonizzeranno su Canale 5 per ascoltare le eventuali parole di commiato di Enzo Paolo Turchi. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.